guardiamoci insieme la rubrica l'innovazione del riccio ciao simona ben arrivata ciao simona di che cosa ci parli oggi allora oggi parliamo dell'importanza delle materie prime visto che voi oggi parlate di prodotti da forno corretto correttissimo benissimo allora quanto è fondamentale anche per fare questi tipi di prodotti la scelta delle materie prime l'abbiamo visto in altre occasioni ma ancora oggi siamo qui a confermarlo quindi la cosa di cui vorrei appunto parlare è quanto è necessario che oltre il confine venga recepito che per fare un determinato prodotto il produttore a sua volta abbia perfettamente identificato le materie prime spesso parliamo di persone consapevoli che fanno acquisti consapevoli quindi vuol dire che sul web e sempre di più la fase di pandemia ce l'ha confermato le persone vanno a cercare informazioni non solo del prodotto e dell'azienda e non solo delle materie prime ma anche di chi è l'azienda ed il motivo per il quale fanno determinate azioni quindi il consumatore non cerca solo più il prodotto buono e sano e garantito ma anche le attività dell'azienda ma soprattutto la ricerca della materia prima spesso utilizziamo app per cercare ma tendenzialmente io cerco anche di fare un passo indietro ed usare il buon senso quindi quindi sai farci un esempio specifico certo allora saporea nasce dall'innata passione e ci tengo a ripetere passione per quanto riguarda l'aceto per la frutta e le erbe aromatiche da parte di una coppia di marito e moglie che si chiamano milco farinazzo e giovanna prevarino queste persone hanno deciso di dedicare la loro vita alla alla produzione di questi prodotti che sono assolutamente di nicchia di conseguenza hanno appunto deciso di fare queste questa nicchia di terreno parliamo proprio di tre ettari di terreno dove coltivano particolari prodotti melograni cachi uva aronia aronia in realtà lamponi fichi ed altre varietà di questi tipo di prodotti per produrre questi prodotti che vanno sia in italia possono tranquillamente essere acquistati all'estero attraverso il loro sito e commerce concludo dicendo che va bene le app va bene l'innovazione ma al centro c'è sempre la mano dell'uomo che è fondamentale che sia il prolungamento di un cervello molto attento al made in italy e quindi alle nostre eccellenze italiane siamo completamente d'accordo con te simona grazie ci vediamo alla prossima puntata la prossima innovazione adesso ci colleghiamo con i segretari delle camere di commercio italiane a mumbai e a melbourne dove abbiamo claudio maffioletti e giovanni caniglia buongiorno entrambi buongiorno 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 un piacere piacere nostro benvenuti grazie per essere con noi maffioletti vengo subito da lei a mumbai in india vorremmo capire quanto il cibo italiano è diffuso nel vostro paese cioè nel paese in cui lei sta e quanto nei ristoranti quanto sugli scaffali c'è una cultura italiana che affascina gli indiani ma l'india per il made in italy per l'italia in generale è un paese fortunato perché l'italia riconosciuta generalmente per la qualità della sua vita ovviamente per i tutti i suoi prodotti lifestyle dall'arredo ovviamente food and wine automotive e moda e in india è un paese che ripeto è riconosciuto a tutte le latitudini del paese per la qualità dei suoi prodotti e dei suoi marchi per quanto riguarda il l'alimentare l'agroalimentare ce ne sono diversi di prodotti italiani presenti sugli scaffali in india il settore del retail quindi la grande distribuzione organizzata in india è ancora una fase iniziale di sviluppo ma ci sono comunque anche già delle catene strutturate con diverse decine di punti vendita nelle principali città indiane che vendono che vendono prodotti italiani che hanno anche degli spazi dedicati all'interno del negozio senta in molte parti del mondo nei grandi alberghi c'è sempre il ristorante italiano no è così anche da voi non ancora succederà è così anche in india generalmente buona parte degli hotel a 5 stelle hanno un ristorante in italiano ma ci sono anche un buon numero di ristoranti italiani stand alone che spesso e volontieri sono gestiti e avviati da italiani che si trasferiscono in india noi una ricognizione qualche anno fa ne avevamo contati almeno 25 in l'india l'ultima è arrivata a più di 90 quindi c'è stata un'evoluzione particolarmente importante nel numero dei ristoranti italiani la cucina italiana è apprezzata anche per i suoi elementi di vegetarianesimo perché comunque l'india è un paese particolarmente attento a questo a questo aspetto caniglia ci spostiamo in australia la situazione australiana è molto diversa perché l'immigrazione italiana verso l'australia negli ultimi decenni cioè da tempo è stata molto massiccia quindi immagino che da voi i ristoranti italiani siano molti i prodotti italiani sugli scaffali supermercati siano molti e ci siano anche le limitazioni si guarda qui in australia siamo un po fortunati perché c'è stata un'immigrazione italiana diciamo dopo guerra che gli italiani hanno diffuso la cucina italiana in tutte le parti d'australia qui parliamo di melbourne è la capitale della cucina italiana allora dei prodotti italiani dopo egp si trovano dappertutto gli italiani ma è la cucina italiana in australia è la numero uno cucina che c'è sia negli alberghi nei nei centri commerciali diciamo mai il cibo italiano qui è diffuso in tutta la comunità le volevo chiedere visto che è molto conosciuta e molto apprezzata la camera di commercio a un qualche una qualche attività di monitoraggio per capire se ci sono prodotti che si spacciano per italiani ma italiani non sono si guarda la camera di commercio da anni gestisce un progetto che si chiama il gusto italiano prima del true italian test e proprio di questo è per diciamo facilitare i ristoranti diciamo i locali italiani per far capire alla comunità cosa cosa vuol dire mangiare all'italiana diciamo proprio il DOP esatto come progetto true italian test e di questo la camera se ne occupa con un titolo di eccellenze italiani nell'agroalimentare allora come camera di commercio siamo lieti di anche partecipare su true italian test perché per noi fa una gran parte del nostro diciamo compito di cadere della camera di commercio io non ho idea di quali siano gli accordi di scambio tra UE e india e quindi Italia e india è agevolato l'accesso dei prodotti italiani autentici nel vostro paese o c'è del lavoro da fare no c'è del lavoro c'è del lavoro da fare come comunità europea ci sono stati delle delle richieste dell'attività di lobbying presso il legislatore indiano per abbassare in particolare il dazio sui prodotti alcolici che in india particolarmente alto si arriva al 160 per cento del del valore cif della bottiglia tentativi ancora non non andati a buon fine anche perché l'india è un produttore di di vino quindi esistono diversi produttori localmente quindi se c'è un po' una tendenza protezionistica da questo punto di vista e caniglia parlando di prodotti quali sono i prodotti italiani maggiormente che hanno maggior successo in Australia questa poi una domanda che poi gireremo anche in india esatto esatto faremo anche a lei i prodotti diciamo più famosi conosciuti qui in Australia ad esempio c'è prosciutto di parma parmigiano reggiano sai quei risarborio diciamo la pizza anche altri prodotti per esempio italiano come detto del riso abbiamo fatto capire per esempio dei funghi per esempio con risotto come utilizzare diciamo l'artigianale la cucina italiana questo è stato molto importante per noi ma sono diffusi altri prodotti anche noi in camera abbiamo per esempio prosecco doc il consorzio che abbiamo utilizzato anche con callo crack su un piatto per esempio del riso anche allora per questo pian pian stiamo a vedere che c'è una grande amplificazione di prodotti italiani prima di chiudere il collegamento perché me il tempo un po tiranno giro la stessa domanda ma fioletti pasta olio extravergine d'oliva sughe conserve sono i prodotti italiani che si trovano praticamente sugli scaffali di qualsiasi negozio di alimentari di un certo livello vi ringraziamo per questo confronto decisamente interessante davvero tutti i prodotti che peraltro trattiamo in queste puntate quindi davvero grazie preziosissime grazie buon lavoro grazie a voi arrivederci arrivederci buona giornata cristiana questo è il momento di una delle mie rubriche preferite anzi forse proprio la preferita si chiama italy versus italy dove però il prima italy è quello vero secondo italy è tutto minuscolo un po tarocco sei pronta perché questo giro tocca a te assaggiare due piatti sì uno è vero uno è falso dovrei dirmi quale dei due secondo te è vero ma non vuoi assaggiare tu no no questo secondo me è per te un piatto molto delicato molto raffinato dammi un secondo allora va bene dai allora qua davanti a te faccio rumori così senti la manina un po più avanti troverai nel piatto lì una cosa una cosa che è bravissimo la brandisci io ti propongo di sporgerti un poi in avanti per non sporcarti il vestito e l'assaggi la odori giusto dita tatto olfatto e gusto dobbiamo fare pausa pranzo benissimo aspetta che ti passo un tovagliolo sempre con gli occhi chiusi ecco qua il tovagliolo benissimo e questa è andata adesso ti passo il secondo piatto che metto sempre lì è un oggetto molto simile ti consiglierei di assaggiarlo con giudizio bene un po di puzza c'è un po di sì come si dice si mangia anche col naso eccoci qua sempre un po in avanti non te la senti dai un assaggino un assaggino una puzza è un assaggino proprio un niente ma non ce la fai non ce la fai non ce la fai ma cos'è piena di aglio a questo punto dai niente niente ti rifiuti rifiuta puoi aprire gli occhi ma dai lo so lo so signori questa è una bruschetta vera come le facciamo noi e questa si chiama bruschetta si chiama bruschetta ma è un trito sostanzialmente di aglio ha solo il nome però di bruschetta però all'estero pensano che questa sia la bruschetta luca sei pronto sono pronto sono emozionatissima perché ti porto a roma quindi rimaniamo qui in italia ci colleghiamo con una persona a cui devo fare un sacco di domande quindi preparati abbiamo in collegamento francesco panella eccolo buongiorno francesco buongiorno buongiorno benvenuto grazie sono molto felice di essere qua con voi anche noi siamo molto contenti anche perché abbiamo mille domande da farti e con chi meglio di te non si può parlare italiani insomma partiamo come sapete tutti francesco gira al mondo con little big italy un imprenditore e nessuno forse come te mi permetto di darti del tu perché questa è la regola d'ingaggio ha visto l'italian sounding in giro per il pianeta no ahimè sì di cotte di crude diciamo no allora diciamo che la mia la mia vita imprenditoriale prima di little big italy parte 12 anni fa quando sono andato ad esplorare un pochino un mercato inesistente che era quello di brooklyn volevo aprire un ristorante ma volevo farlo in un modo un po originale ed ho scelto brooklyn che era una terra un po di nessuno 12 anni fa e sono stato ispirato dagli stati uniti perché ho visto nelle marginalità incredibile per poter raccontare il nostro made in italy c'era un grande gap da colmare e mi sono gettato con grande entusiasmo e spiro di impresa in questa che è diventata un'avventura molto importante perché adesso i ristoranti si sono sono aumentati sono due tra cui uno l'ultimo nato si chiama feroce antica pesa c'è da nove anni feroce c'è da un anno e mezzo ha preso diciamo dei riconoscimenti molto importanti ma quello che mi interessa a me è di aver avuto l'opportunità di lavorare con una grandissima corporate io sono partner della corporate numero uno che c'è negli stati uniti eh sotto diciamo la cappella del merison square garden e ho convinto questa grande corporate che ha ristoranti un po tutto il mondo a a raccontare l'italianità e l'ho fatto attraverso la nostra biodiversità attraverso il territorio e la corporate la prima cosa che fa parla di numeri no vogliono capire i numeri quello che fai quello che non fai e io l'icopsi di sorpreso perché non ho parlato di numeri per i primi otto meeting siamo tratti di che è durato due anni ho parlato solamente dell'italia e delle potenzialità che potevamo avere raccontando l'italiana l'italianità vera il nostro made in italy e specialmente ho potuto avere la soddisfazione di raccontare i nostri produttori i nostri agricoltori la nostra filiera pazzesca quello che ci rende probabilmente una nazione ehm sicuramente diversa da tutte le altre praticamente hai fatto innamorare tutti del nostro made in italy della nostra passione dell'esperienza della tradizione hai fatto l'ambasciatore un po' io ho messo prima la passione nel raccontare cos'è l'italia per me e ho messo da parte l'aspetto diciamo un pochino più economico ehm quando sei spinto dalla passione riesci a fare delle cose che probabilmente non riusciresti a fare eh se pensi solamente ad un business ehm secondo me dobbiamo svincolarci eh da questo grande gap e raccontare l'italia un pochino più col cuore e con la passione attraverso il territorio attraverso i nostri ambasciatori sul territorio come dicevi come dicevate voi che sono appunto i ristoratori. Senti rispetto a dieci anni fa dodici anni fa tu parlavi di un gap no nella conoscenza vera del vero cibo italiano la situazione è migliorata e peggiorata e stabile come ti sembra? Accade che negli ultimi dieci anni il processo evolutivo dei social media ci hanno aiutato tantissimo e quindi è un po' più facile raccontare quella che è la verità. Cosa bisogna fare? Bisogna secondo me le nuove generazioni che vanno a imprendere in America attraverso anche le reti consolari che dovrebbero dare anche secondo me un po' più una linea guida su quello che dobbiamo fare dobbiamo fare un effetto taken and given no? Cioè dobbiamo prendere ma dobbiamo anche dare e dobbiamo lavorare su quello che è il made in Italy e combattere in senso positivo perché poi c'è anche l'italian sounding quello più spontaneo più genuino quello che magari è quello che è migrato tre anni fa tre generazioni fa negli anni venti cerca di portare quei sapori italiani al più era abituato e fa dei tentativi c'è un conto l'italian sounding un pochino più spontaneo a cui certo non strizzo l'occhio perché io sono un purista però lo lascio capito non riesco a... invece c'è gente che trevisa non so se sono stato chiaro adesso Pannello ti volevo chiedere se la cucina italiana contemporanea e anche il fatto di avere grandi cuochi di cucina italiana contemporanea penso italiani che sono diventati famosi all'estero ma anche italiani che sono all'estero ci può aiutare a riallineare queste due cose cioè il fatto di avere come dire di comunicare al mondo una cucina italiana nuova che usa i prodotti di oggi con la qualità di oggi con le ricette che non sono per forza quelle buone ma che ormai fanno un po' parte di una tradizione che anche in Italia è un po' laggiù assolutamente sì c'è tutta una linea nuova super green contemporanea di chef che ci danno una mano in questo dobbiamo essere bravi noi anche ad avere un pochino più di polso in quello che è il mercato americano che è un mercato enorme un mercato grandissimo quando un famosissimo giornale il più letto d'America se ne esce con una carbonara sbagliata o con una lasagna che non si chiama lasagna e usano la leva del marketing di nomi che sono molto taggate usati e la buttano là il tema è poi andare a combattere il pregiudizio di un racconto che è diverso cioè quando l'autorevolezza di un giornale si va a scontrare con la narrazione di uno chef italiano allora lì c'è un problema ecco perché io chiedo i canali consolari dovrebbero aiutare aiutare anche dal punto di vista di comunicazione questa roba e avere un polso un pochino più fermo perché mentre per noi è vita mentre per noi se facciamo uscire un piatto di pasta dal ristorante scotto ci sentiamo male perché non lo accettiamo è più forte di noi per gli altri non è così no no noi siamo totalmente d'accordo anche perché proprio anche questa iniziativa fa parte di un progetto di comunicazione delle camere di commercio all'estero proprio per tentare di andare nella direzione che dicevi tu no poi c'è la questione c'è la questione dei ristoranti c'è proprio la questione dei prodotti che come dicevi tocca enormi interessi perché parliamo di miliardi di agroalimentare no noi diciamo sempre qua che l'italian sounding nel mondo vale 100 miliardi di euro questo vuol dire che sono 100 miliardi che gli altri prodotti che vengono venduti no quindi ti volevo chiedere tu che hai grande esperienza degli Stati Uniti quanto sugli scaffali dei supermercati nelle case degli americani arrivano prodotti che fanno finta di essere italiani ma non lo sono ti devi avere l'intelligenza di coordinarti sul territorio e di trasferire il made in Italy che rimane il made in Italy ma a livello percettivo deve diventare un made with Italy solo a livello di percezione sulla vendita perché perché se faccio una pasta con il pomodoro e uso una pasta secca di un pastaio nostro italiano strepitoso e la vendo come storytelling con un pomodoro di New Jersey non mi prendete a male in questo momento ti farrete e non sei boicottato allora rimaniamo sempre made in Italy ma strategicamente dobbiamo avere l'abilità di avere la capacità di trasferirci in questo momento storico non essere boicottati e fondamentali riuscire a fare le stesse esportazioni lo hai ancora di più bisogna fare squadre ed avere una linea comune sì abbiamo un'ultima domanda perché poi alla fine con Little Big Italy sforiamo ma siamo felicissimi di farlo avrai un aneddoto da raccontarci di qualche piatto anche più di più ma non mi fate di cose per favore è stata così bella questa conversazione vedi che stavo chiudendo io una piccola curiosità ragazzi allora sono da questo istante italiano che mi avevo detto che era abbastanza buono e il proprietario mi voleva vendere questa spigola Sea Bass di mare praticamente stavamo nel deserto ok vicino Dallas e ci facevano l'abbinamento con il cappuccino il ristoratore italiano di quarta generazione pretendeva che l'effetto della caffeina sulla spigola creava questo kick mostruoso alla fine sono uscito che il kick che io ho dato io dietro a vedere benissimo spigola e caffeina un'altra volta come se avessimo accettato grazie ugualmente Luca stai pronto a collegarti con due chef? sono sempre pronto a collegarmi con gli chef che sono le persone che preferisco in assoluto lo sapevo e allora ti presento subito Claudio Pirovano in collegamento da Mosca e Adriano Peroncini in collegamento da Zurigo benvenuti innanzitutto buongiorno 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 a voi grazie per essere con noi parto da Adriano Peroncini che è a Zurigo in Svizzera quindi diciamo poco oltre i confini italiani e quindi la domanda è proprio questa cioè essendo la Svizzera così vicina i clienti riconoscono svizzeri e anche internazionali la cucina italiana autentica essendo distinguerla da quella che sembri italiana ma italiana non è? sì in realtà questo fenomeno lo si riscontra più che altro negli ultimi 3-4 anni io sono a Zurigo da circa 13 anni e sinceramente quando sono arrivato nel 2008 le cose erano molto diverse questo aspetto qui fortunatamente anche da quando ho aperto il ristorante siamo aperti da circa poco più di 5 anni e abbiamo avuto insomma un riscontro positivo visto e considerato che noi incentriamo obiettivamente un'italianità a livello proprio etnico molto radicalizzata sui prodotti italiani cosa che a Zurigo comunque sia ancora è difficile riuscire a trovare molti prodotti e fortunatamente noi come logistica ci appoggiamo a Milano però sicuramente sì questo è un fenomeno che fortunatamente la mia clientela ha trovato come novità ed è riuscita a iniziare a scoprire anche negli ultimi anni ma veramente molto giovane come fenomeno Pirovano invece a Mosca quanto è amata la cucina italiana e quanto è imitata? Allora amata tantissimo veramente tanto è amata la cucina italiana quindi se parliamo di una Mosca di 5-6 anni fa diciamo che era la prima cucina in assoluto quindi c'erano tantissimi ristoranti italiani negli ultimi 5-4 anni diciamo che i russi stanno puntando molto sulla cucina russa quindi la cucina italiana è un po' andata in secondo piano tra virgolette anche perché con la questione delle sanzioni quindi le sanzioni cosa sono? che qua non si possono ricevere prodotti italiani tipo latticini tanti tipi di salumi e altri prodotti che adesso non mi vengono in mente quindi ci hanno un po' bloccato diciamo però la cucina italiana è amata insomma Pirovano le chiedo proprio a questo proposito delle sanzioni visto che i ristoranti italiani a Mosca e in Russia in generale sono molti come si organizzano adesso? immagino che l'Italian Sounding sia aumentato cioè di prodotti che vengono utilizzati nei ristoranti italiani e diciamo proposti come italiani ma che in realtà sono prodotti in Russia o altrove ma sì se parliamo del 50% dei prodotti cioè i formaggi a pasta morbida li fanno tutti qua ci sono venuti tantissimi casari italiani appena dopo le sanzioni e hanno iniziato a fare i formaggi qua adesso stanno facendo il grana padano mi scusi mi scusi la interrompo perché questo mi interessa molto cioè sono italiani che diciamo per rispondere alle sanzioni hanno lasciato l'Italia, sono venuti lì e si sono messi a produrre lì ho capito bene? più che gli italiani sì sono italiani cioè sono i russi, pagano, prendono gli specialisti dall'Italia e dicono guarda noi non compriamo più la burrata, lo stracchino dall'Italia vieni ti paghiamo e ci fa il caseificio qua e li fanno qua bene o male insomma bene o male bene o male naturalmente però sappiamo bene che i rapporti commerciali tra i due paesi appunto sono da affinare diciamo non solo in un momento positivo da questo punto di vista torno un attimo a Zurrigo da Peroncini perché volevo chiederle questo poi lo chiederò anche a Pirovano lei diceva negli ultimi anni è cambiata la cosa quanto grazie a voi cuochi italiani contemporanei cioè quanto il cuoco è utile per diffondere la cultura del vero cibo italiano? fondamentale direi come percentuale siamo sul 98% perché fondamentalmente quando io sono arrivato dopo diciamo un'esperienza anche internazionale ovviamente il problema era che non c'era la domanda anzitutto da parte degli operatori del settore per cui io sono stato veramente un precursore in questo tant'è che nelle mie difficoltà quello che mi è venuto utile è quello di riuscire a convincere alcuni fornitori in zona a cambiare magari alcune logistiche oppure idee dal punto di vista proprio di approvvigionamento merci dando io direttamente dei contatti sulla piazza di Milano io venivo come ultima esperienza da dieci anni a Milano e quindi avevo ovviamente un vantaggio di avere delle referenze anzitutto da consigliare quello che di differenza c'era visto che si parlava di sanzioni che non è che in Svizzera era esente anzi a maggior ragione siamo vicinissimi ma io lo definisco ancora il Giappone di Europa nel senso che comunque sia rispetto al resto di Europa siamo fuori dall'Europa per cui c'è anche qui una protezione interna del prodotto comunque interno dal punto di vista anche agricolo prodotto in Svizzera che è aumentato in percentuale negli ultimi anni e questo in un certo senso è andato a nostro discapito a mio discapito per la mia filosofia di lavoro perché comunque sia paradossalmente se noi vogliamo prendere il pomodorino DOP del Vesuvio durante la sua stagionalità lo possiamo prendere, non c'è proibito però dobbiamo pagare dei dazi che superano il valore stesso del prodotto io come scelta rischiosa questo tipo di scelta l'ho fatta proprio per non pregiudicare la mia filosofia di cucina e anche la mia filosofia proprio come italianità da diffondere come rappresentante qui a Zurigo Grazie, grazie mille Pirovano, solo un'ultima battuta qual è il piatto italiano che ha più fortuna nel paese dove sta? Il piatto italiano che ha più fortuna ma nel ristorante dove lavoro io? Sì, quello più richiesto, più apprezzato Sono tanti, farne uno è un po' difficile Al massimo due, ce ne concediamo No, sono tanti, non so, lo spaghetto con le vongole Benissimo, perfetto Va bene, noi vi ringraziamo e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata Grazie di tutto, buon lavoro nei vostri paesi gli spaghetti con le vongole è aderente, io li mangio spessissimo in Italia quindi è aderente all'Italia Arrivederci Grazie Grazie a voi, arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti